per i motivi covid diciannove gli atleti che dovranno ricevere la medaglia riceveranno questo attestato direttamente su dove alle spalle del max schermo potranno andare a ritirare in maniera celere poi ciò che gli spetta in maniera tale da non accumulare e non fare assembramenti successivamente intanto ricordiamo che il periodo di riscaldamento è terminato preghiamo di liberare la vasca grazie 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 a tutti 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 Grazie. 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 Avviamo a vedere come si va a concludere questa serie numero 12. come detto questo campionato italiano intanto vediamo prima la conclusione 1.11.76 il tempo ufficioso di Riccardo Tozzi 1.18.27 per William Frison tanto si notano le differenze anche di prestazione nonostante siano la stessa categoria degli atleti proprio per il motivo che abbiamo detto che sono stati inclusi anche atleti non in possesso del limite di capire l'accesso ai campionati italiani assoluti non in possesso di capire l'accesso ai campionati bello questo applauso a termine di questa prova presentiamo gli atleti della serie numero 11 in corsia numero 1 per Vincenzo Pirone del centro sportivo Portici in corsia numero 2 stato medagliato addirittura ai campionati europei con il record italiano nei 50 metri rana categoria SB2 oggi si cimenta nei 50 metri stile libero per il centro sportivo Portici Emanuele Marigliano in corsia numero 3 per la POAFI ASD Luigi Tocco il centro sportivo Portici ma è in corsia numero 4 noi sono stati in corsia numero 6 in corsia numero 6 e in corsia numero 3 per la testa di sottotitologia e in corsia numero 5 per la testa indipendio per la testa di sottotitopia Grazie a tutti. Saliamo quindi di categoria atleti in basca su categoria S4 e categoria S3. Grazie a tutti. Luigi Paola intanto con una notata molto sciolta riesce ad aggiudicarsi in maniera ufficiosa. Questo 50 metri stile libero, 51 e 28 il suo crono ufficioso. A vedere la seconda posizione in corsia numero 7, 1-2-34 Alessandro Conti, 1-2-97 per Emmanuel Mariano. E vi arrivano tutti quanti gli altri. Faccio notare che anche Alessandro Conti della Polisportiva Bresciana, categoria S3. E ora è molto vicino al suo tempo di iscrizione. Conti blocchi di partenza, gli atleti della serie numero 10. In corsia numero 1 troviamo Massimo Sapio, gruppo sportivo paralimpico difesa. Alla 2, Gabriele Lorenzo, Pola Varese. Alla 3, Giovanni Palumbo, Polisportiva Timbi. In corsia 4, Giampaolo Canale, Polisportiva Bergamasca Onlus. In corsia numero 5, Angel Torres, Polisportiva Bresciana No Frontiere Onlus. In corsia numero 6, anche lui ha fatto parte della spedizione vincente ai campionati europei in Portogallo per i colori del circolo sportivo guardia di finanza, Luigi Beggiatto. Corsia numero 7, Giulio Legrottaie, Elpis. Alla 8, Alen Sonza, Pola Varese. Il tecnico del circolo sportivo guardia di finanza, in zona partenza, gentilmente dalla giuria. Alla 8, Alen Sonza, Pola Varese. Alla 8, Alen Sonza, Polisportiva, 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 Polis per Alessio Beggiato per Luigi Beggiato in Vasca possiamo elencare un argento e due bronzi proprio nei 50 metri stile libero è stato argento ai campionati europei con tanto di record italiano 38 e 65 il crono con il quale ha registrato questo tempo andiamo a vedere ora quanto sarà il suo crono ufficioso 41 e 03 periodo di carico sicuro per Luigi Beggiato in quest'ultimo periodo proprio in vista di Tokyo 2021 38 e 96 il tempo ufficio per Giulio Le Grottaglie e 50 e 67 per Gabriele Lorenzo con il devo questa volta c'è un momento che si è fatto che si è fatto e che si è fatto in questo momento per raggiungare che si è fatto chi? Grazie. 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 Il nuovo record italiano si è confermato dalla giuria categoria ragazzi. Grazie. 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 Adesso. Il corsia numero sei Francesco Bocciardo proprio in questa gara si è laureato campione europeo con il tempo di 32 e 90. Vedete la sua notata già molto più alta nella tenuta nella linea di galleggiamento molto continua la frequenza di bracciata. Sono quattro Iori a Fucal in Portogallo e un argento per il portacolori del gruppo sportivo Fiamme Oro. A vedere con quanto a livello ufficioso si aggiudica questa serie numero otto. 33 e 94 il tempo ufficioso di Francesco Bocciardo. 38 e 60 Antonio Auricchio. 43 e 24 per Matteo Brusca. Tempi e classifiche ufficiose. moderne. Oracle Ra如. Volge la conclusione quindi anche la serie numero otto. ben piano arrivano su Bordovasca gli atleti della serie numero 7 in corsa 1 è pronto a partire Gabriele Pancelli Acquatim Motoguoio alla 2 Emiliano Messina i ragazzi di Panormus in corsa numero 3 Mattia Prodomo Milana SS Lazio Nuoto in corsa numero 4 Simone Rossi Polisportiva Bergamasca Onlus la 5 Marco Maria Dolfin Briantea 84 sia numero 6 Riccardo Geni Pavia Nuoto alla 7 Salvatore Bentangelo Centro Sportivo Portici alla 8 Thomas Diaconu ASD Silvia Tremolada Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti in questa serie numero 7 Simone Rossi tutti gli altri invece sono categoria S6 c'è la taia qui in corsia numero 2 in corsia numero 3 tra Emiliano Messina e Mattia Prodomo sembra in testa proprio Mattia Prodomo in questo momento vediamo con quanto si aggiudica questa serie 40 e 05 il tempo ufficioso proprio di Mattia Prodomo ora il tempo di iscrizione Riccardo Geri 42 e 76 Emiliano Messina 43 e 90 grazie a tutti per l'ingresso su piano vasca gli atleti della serie numero 6 50 metri stile libero al maschile in corsia 1 Giuseppe Spatola gruppo sportivo paralimpico difesa alla 2 Fabio Garlaschi Pola Varese in corsia numero 3 Danilo Ambrosini in Pola Varese corsia numero 4 ha un curriculum di primissimo ordine per i colori della polisportiva bresciana No Frontiere Ollus detiene il record italiano per la categoria S7 proprio nei 50 metri stile libero Federico Bicelli in corsia numero 5 troviamo Stefano Pozzan della Pola Varese in corsia numero 6 Tommaso Bertini ASD Toscana di San Vili Sport alla 7 Simone Basti Nuto Lagabella in corsia numero 8 Roberto Acazza con il portico a Bergamasca Ollus Ollus per la Nota bittima in corse numero 4 abbiamo proprio Federico Picelli attenza con tuffo la sua 28 e 68 il record italiano, tiriamolo d'occhio bella la notata proprio per il portacolori della polisportiva bergamasca si vede proprio la differenza di stile per Federico Picelli atleta italiano paralimpico più veloce proprio nella categoria S7 su 50 metri stile libero tempo ufficioso 28 e 70 soli due centesimi dal suo record italiano 35 e 27 per Stefano Pozzano e 38 e 76 per Danilo Ambrosini fronte blocchi di partenza a tre di serie numero 5, corsia 1 Vincenzo Spinelli, centro sportivo Portice alla 2, Leonardo Torsani, polisportiva comunale Riccione, alla 3, Amerigo Pelozzi Polavarese, corsia 4 Gioele Ciampricotti ASD, circolo canotti Rianiene, corsia 5 Tommaso Morandi, polavarese alla 6, Lorenzo Allibrandi, SS Lazio alla 7, Claudio Negru SS Lazio, alla 8 Marino Serafini polisportiva comunale Riccione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Atleti categorie S8 in vasca con tutti quanti sulla stessa linea Campata spumeggiante alla corsia numero 3 per Amerigo Pelozzi sempre proprio in testa in testa a testa la corsia la 4 e la corsia numero 5 vediamo chi la spunta e corsia numero 4 tempo ufficioso 31,64 per Gioele Ciampricotti intanto lampeggia proprio il led del record italiano categoria ragazzi per Tommaso Morandi che si è confermato e nuovo record italiano categoria ragazzi 31,72 terza posizione per Amerigo Pelozzi 32,92 tempi sempre ufficiosi pronta a partire la serie numero 4 in corsia numero 1 Massimo Resta SSD difesa Sport Bologna in corsia numero 2 Karim Ronzoni Silvia Tremolada in corsia numero 3 Gianluca Attanasio Centro Sportivo Portici in corsia numero 4 Antonio Boccia Centro Sportivo Portici alla 5 Sebastian Pilutti Adus Triestina Nuoto alla 6 Enrico Mariani Polisportiva Comunale Riccione in corsia numero 7 Accreditato di 27,98 che è anche il record italiano stabilito proprio agli europei in Portogallo per la Pola Varese Alberto Amodeo ed in corsia numero 8 Michele Marinelli Polisportiva Senigallia Quanta Ciara Boccia questa serie è un misto tra categoria S9 e categoria S8 proprio in corsia numero 7 abbiamo Alberto Amodeo classe 2000 categoria S8 per la Pola Varese per lui due argenti ai campionati europei in Portogallo andiamo a vedere quanto è il crono ufficioso 29 e 60 tempo ufficioso per Alberto Amodeo 28 e 60 31 e 46 per Massimo Resta e 32 e 19 per Michele Marinelli per la serie numero 3 sono pronti a partire in corsia numero 1 Davide Perrone CSI Trento alla 2 Diego Acquisto i ragazzi di Panormus alla 3 Ludovico Francesconi nuoto Baldinievole alla 4 Francesco Nicoletti Pola Varese alla 5 Silvio Sicurani Pavia nuoto alla 6 Angelo Santoro Centro Sportivo Portici alla 7 Ettore Pace SS di Piscina Melegnano alla 8 Claudio Faretra SS Lazio nuoto Grazie a tutti 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 Atleti categoria S9 in Vasca il tempo di iscrizione per Francesco Nicoletti della Pola Varese Proprio lui in testa al comando questa serie numero 3 Ultime bracciate, ultime fatiche vediamo un po' se scende al di sotto di 30 secondi 30 e 16 di pochissimo al di sopra di questo limite seconda posizione per Lodovico Francesconi 32 e 09 terzo posto per Angelo Santoro 32 e 34 Serie numero 2 pronta a partire corsia numero 1 troviamo Giovanni Rossi Polisportiva Bresciana No Frontiere Ollus alla 2 Vittorio Abete Centro Sportivo Portici alla 3 Francesco Iennacco Centro Sportivo Portici alla 4 Alessandro Apuani Polisportiva Bergamasca la 5 Cristian Piazza della Pola Varese alla 6 Marco Franzoni del Centro Sportivo Portici alla 7 Tommaso Wulzer della SS Lazio in corsia numero 8 per i colori del gruppo sportivo Fiammazzurre e del circolo Canottieri Naniene è stato uno degli atleti che ha partecipato arrivato proprio alla spedizione italiana in Portogallo Simone Ciulli la 6 Tommaso Benefetto la 6 Tommaso di Monti Grazie. E in corsia numero otto abbiamo proprio Simone Ciulli, categoria S9, unico atleta categoria S9, gli altri sono tutti S10, fine di galleggiamento ottimale per l'atleta delle Fiamme Azzurre, accompagnato qui proprio da Alessandro Conforto. Andiamo a vedere un po' il crono ufficioso, è di 26.16, per Simone Ciulli migliora il suo tempo di iscrizione, seconda posizione per Alessandro Fuani 30.01, terzo posto per Marco Franzoni 30.09, di poco sopra il limite di 30 secondi. Siamo quindi pronti a presentare la serie numero uno, serie finale proprio di questi 50 metri stile libero, dopodiché alle ore 10 sarà aperta la vasca per il settore femminile dei 50 metri stile libero e per i 150 misti. Ecco gli atleti che si portano sul piano vasca. Corsia numero uno, troviamo Darius Basile Mif della SS Lazio, alla due Federico Bassani SS Lazio, alla tre Fabrizio Ranieri Polavarese, corsia numero quattro Elia Piai, ASD Aspea Padova Ollus, alla cinque Thomas Rodella ASD Aspea Padova Ollus, alla sei Almedin Neziraj, Polavarese, alla sette Leonardo Santinelli, Silvia Remolada e in corsia numero otto Roberto Pasquini SS Lazio. Grazie a tutti, grazie a tutti. Volge al termine quindi anche la serie numero uno di dodici di questi 50 metri stile libero al maschile. La spunta Darius Basile 29.06, intanto lampeggia un record italiano in 29.27 per Federico Bassani e un record italiano di categoria ragazzi per Thomas Rodella 33.46, tempi sempre ufficiosi. Ricordiamo nuovamente che quindi la vasca per il riscaldamento di 50 metri stile libero al femminile, e i 150 misti avrà luogo dalle 10 alle 10.35. invitiamo nuovamente gli atleti che sono arrivati a seguire scrupolosamente l'ordine di categoria assegnata per le varie corsie, dovrebbero essere le categorie S1, S2, S3, corsia numero uno e otto, troverete tutto quanto scritto poi sulle corsie, mi raccomando quindi questa precisazione. grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. dei 50 metri stile libera al femminile e 150 misti non è assolutamente aperta di vita al defaticamento delle gare appena concluse. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. per cominciare quindi per la seconda sessione invitiamo la giuria ai volontari a prendere posizione intanto qui alla presenza del presidente della federazione italiana noto paralimpico Roberto Valori. siamo pronti a dare il via ufficiale a questo campionato italiano assoluto estivo con l'inno nazionale italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. con me il presidente della federazione italiana noto paralimpico Roberto Valori al quale cedo la parola per un saluto. benvenuti a tutti e buona giornata l'emozione è forte nel rivedere e cominciare qualcosa che riparte già da qualche mese abbiamo fatto anche qualcosa precedentemente a questo evento però piano piano stiamo ripartendo. abbiamo avuto un numero considerevole di alle riscritti e mi riempio il cuore indipendentemente dal fatto che la federazione vive affinché i numeri aumentino e più disabili quindi escano da casa e facciano attività però mi riempio il cuore perché vuol dire che la gente comincia a uscire sempre ovviamente osservando i dogmi e i regolamenti quelli delle mascherine a distanza e contatto che raccomando istituzionalmente. a questo punto ringraziando Enza Locco e la società di Porteci che in un accordo con la federazione che ieri pomeriggio all'hotel Western ha celebrato l'ennesimo consiglio federale. a nome mio, a nome del segretario generale e di tutto il consiglio federale ringraziando lo staff, dichiaro su una metà aperta e gli assoluti estivi di moto e la campionata della società. Grazie a tutti, divertitevi e buona giornata. Grazie mille al presidente. Quindi pronti per la seconda parte di gara? Giulia a posto. In questa seconda sessione avremo i 50 metri stile liberal femminili e 150 metri misti. Come già più volte ribadito invitiamo gli atleti che via via devono svolgere la loro performance a portarsi in camera di chiamata per avere le partenze in maniera celere e rispettare quindi gli orari. Facciamo notare la sanificazione che avviene costantemente dei blocchi di partenza da parte dei volontari questo campionato italiano assoluto estivo tutto quanto curato quindi nei minimi particolari in modo tale che le norme covid siano rispettate. Sette le serie previste in questi 50 metri stile liberal femminile. La serie numero 7. Pronte blocchi di partenza in corsia numero 1 Giorgia Amodeo polisportiva dilettantistica integrabili. Alla 2 Valeria Pappalardo nuoto la gabella. Alla 3 Beatrice Filippini polisportiva bresciana no frontiere on loose. Alla 4 Martina Morzaniga ASD Silvia Tremolada. Corsia numero 5 Federica Stroppa polisportiva dilettantistica polisportiva disabili Fabriano Mirasole. Alla corsia numero 6. È stata anche lei una dei membri della squadra che ha stravinto il medagliere ai campionati europei di Funcal. Un record del mondo, un record europeo, tre record italiani, quattro Iori conquistati, un argento. Signori e signori per la Polavarese Ariola Tremi. Alla corsia numero 7, atleta di casa di Napoli del centro sportivo Portici. Medaglia di bronzo e record italiano nei 50 metri d'orso. Quest'oggi si cimenta nei 50 stile libero per il centro sportivo Portici, Angela Procida. Ed in corsia numero 8 troviamo Stefania Gemignani, Acqua Team Nuoto Cuoio. Quest'oggi si cimenta nei 50 metri d'orso. Quest'oggi si cimenta nei 50 metri d'orso. Quest'oggi si cimenta nei 50 metri d'orso. due le atlete che hanno fatto parte proprio della nazionale come già detto Riola Trini e Angela Procida Riola Trini proprio nei 50 metri stile libera ha fatto siglare il record del mondo in 41 e 15 quindi occhio al cronometro molto continua la bracciata dell'atleta della Pola Varese lei in testa sempre lei al comando classe S3 andiamo a vedere il crono ufficioso 41 e 27 poco sopra un decimo dal suo record del mondo Riola Trini andiamo a vedere ancora Angela Procida categoria S2 quindi una classe in bassa alla sua l'età di casa 1'11 il tempo di iscrizione 1'16'86 il record italiano quindi ancora occhio attenzione a quello che sarà il crono ufficioso di Angela Procida andiamo a vedere il crono 1'12'49 ufficioso e si è confermato nuovo record italiano per l'atleta del centro sportivo Portici 1'136'36 per Federica Struppa in corsia 5 presentiamo la serie numero 6 questi 50 metri stile libero al femminile in corsia numero 1 in corsia numero 1 è pronta a partire Teresa Maria Molinari Tosatti con la sportiva Bergamasca Olus alla 2 Emma Simeone con la sportiva Terraio corsia numero 3 una delle atlete degli europei di FUNCAL per i colori delle fiamme oro e del legonuto Giulia Ghiretti medaglia d'argento proprio agli europei nei 100 metri in rana corsia numero 4 Marta Caponera SS Lazio alla 5 Angela Migliaccio Apidi Dean Sport alla 6 Francesca Pozzi Briantrea 84 alla 7 Lisa Santonocito Silvia Tremolata alla 8 Larissa Duduianu ad avanti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. pronte a partire per la serie numero 2 corsia 1 Marta Pozzi polisportiva del Raio alla 2 Michela Biolcati ASHD Novara alla 3 Rosanna Brunetti Acquamarina Team Trieste alla 4 Adlin Cicca Pola Varese alla 5 Valentina Rossani centro nuoto Massarosa alla 6 Silvia Panza polisportiva Bergamasca Ollus alla 7 Jessica Jelberton Pola Varese alla 8 Silvia Vic polisportiva Bergamasca Ollus alla 5 Grazie a tutti. 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 Ed è il momento quindi di cambiare stile. Sono tre le vasche che vedranno impegnati gli atleti in questa serie unica di 150 metri misti. Le categorie impegnate sono la categoria S3 e la categoria S4. Grazie a tutti. 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 Numero 5. Un indemoniato atleta del Centro Sportivo Portici che vuole staccare il ticket per Tokyo 2021. E' campione europeo e detiene anche il record italiano nella distanza di 50 metri rana per il Centro Sportivo Portici, Emmanuel Mariano. Ed in corsia numero 6, David Andriesh, Silvia Tremolata. Grazie. 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 Uno, tre e quattordici, prima frazione andata per i primi due atleti, Efrem Morelli classe SM4, Manuel Mariano SM3 invece, Catarrana, ispirazione, ogni circa quattro bracciate per Efrem Morelli, tre e quattro bracciate per lui, Manuel Mariano ogni due invece, la sua respirazione, un po' corto l'atleta del centro sportivo, molto più scivolata invece la notata di Efrem Morelli, già si trova al passaggio di cento metri, a vedere quanto è il crono, uno cinquantuno e novantanove, cento metri di gara quindi per Efrem Morelli che vanno via, ultimi cinquanta metri, portacolori delle fiamme oro, ancora elevatissima la frequenza di Manuel Mariano, sempre respirazione ogni due, Efrem Morelli continua la sua fatica ed è già a metà vasca nello stile libero. Emanuele Mariano, due, ventuno e quattordici il passaggio, occhio al cronometro, occhio al cronometro perché per Emanuele Mariano, record italiano di categoria, nazionale tre ventisei e ventotto, con questo passaggio molto molto vicino, andiamo a vedere un poco come funziona, tempo 2.45.05 per Efrem Morelli, migliora il tempo di iscrizione di circa un secondo e tre, intanto continua Manuel Mariano, stringe i denti. Andiamo a vedere il crono ufficioso di Manuel Mariano, si può esultare per sfogo, tutta quanta la sua grinta, tre, trentadue e ottante il crono ufficioso di Manuel Mariano. Alessandro Conti, tre, cinquanta e quindici, crono ufficioso. Il frattempo invito nuovamente gli atleti che devono ancora ritirare la medaglia, di farlo alle spalle proprio del monitor che abbiamo qui. Continua la sua fatica. Giovanni Turini dell'Acqua Team Nuoto Cuoio, è proprio questo lo spirito giusto, ricercato dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, l'inclusione, come ha detto il Presidente Roberto Valori poco fa, proprio quello di far uscire di casa le persone con disabilità. Questo campionato è proprio quello stimolo, quell'input che la Federazione vuole dare e sta dando a tutti quanti gli atleti che si affacciano quindi ad un mondo completamente nuovo, con atleti di assoluto valore, appena concluso la fatica di Efrem Morelli e Manuel Mariano, atleti della Nazionale Italiana Assoluta. ed ora è pronta sul Bordo Vasca per la serie unica di questi 150 metri misti al femminile. Andiamo a vedere da vicino però prima come si va a chiudere, è doveroso attendere il termine di Giovanni Turini, il dato di 6-0-9-0-3. direi a tutti gli atleti quindi questi ultimi metri di accompagnare con un forte applauso l'atleta dell'acqua di nuoto cuoio che raffigura proprio questo spirito di inclusione ricercato proprio in questo format del campionato italiano assoluto estivo. a prescindere dal crono, a prescindere da tutto, Giovanni Turini, 6-28-34. Allora, informazione molto importante di servizio, al termine di questo 150 misto non avrà subito il voto sta ascoltando Willi Annuncio importante quindi questo 150 metri misti assoluto femmine avremo anche un recupero della gara dei 50 metri stile libero al femminile infatti partirà in corsia numero 2 Aurora Esabotini dell'Italica Sport SRL che farà i 50 metri stile libero ed invece in corsia numero 4 atleta di casa di Napoli del centro sportivo Portici detiene il record italiano nei 50 metri d'orso categoria S2 ed è anche stata a medaglia di bronzo proprio in questa gara agli europei di Fungal in corsia numero 4 abbiamo Angela Procida grazie a tutti grazie a tutti come già detto quindi c'è il recupero del 50 metri stile libero per Aurora Esabotini dell'Italica Sport SRL sta in corsia numero 2 mentre invece la corsia numero 4 una gara inedita in quanto non vedo segnalato il record italiano che è di categoria abbiamo Angela Procida occhio al record continentale che è 4,56 e 73 è un'altra gara in corsia numero 4 Urre Esabotini intanto via via per la sua performance Angela Procida specialista proprio della frazione d'orso infatti bracciata piena spinta in tutta quanta la fase subacquea della bracciata già è lì pronta la virata dei 50 metri grazie a tutti grazie a tutti Angela Procida da metà basca della frazione rana ispirazione per lei ogni due bracciate seguita da Francesca Allocco e Denso Allocco facciamo una gara inedita proprio per la difficoltà di questa prova del misto al femminile soprattutto per la categoria di Angela ricordiamo una SM2 è una di quelle gare toste che difficilmente ci si cimenta siamo quindi alla virata dei cento metri cento metri di gara per Angela Procida ultimo 50 per lei aumenta un po' la frequenza in questa seconda parte in questa seconda metà grazie a tutti 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 93 passaggi cento metri per abbattere il record continentale il record europeo le serve una vasca di ritorno ritorno al minuto di 42 secondi e nelle sue corde e nelle corde di Angela attenzione siamo proprio molto vicini vedete la fatica è veramente una gara molto molto impegnativa questa qui non a caso nessuno fin ad ora si è cimentato in questa categoria in questa gara 4.56.73 il record continentale 4.50.33 il record del mondo Angela Procida stringe i denti cerca con tutte quante le sue forze di portare a casa un risultato strepitoso ultimi 10 metri ultimi 10 metri è seguita con i fischi soliti dal tecnico Enzo Allocco e da Francesca Allocco entrambi seguono strenuamente ogni giorno sul piano Vasca un atleta che merita tanto per i sacrifici che fa come di altronde tutti quanti gli altri vediamo un attimo come si va a chiudere la fatica di Angela 5 minuti 8 secondi e 84 chiude una gara davvero difficilissima e se confermato stabilisce il nuovo record italiano tanto ricordiamo nuovamente che la Vasca prevista all'apertura alle 11.35 ovviamente terminate quindi questa seconda sessione gli atleti che devono riscaldarsi unicamente gli atleti che quindi devono gareggiare nei 200 metri misti nei 50 rana e nei 100 metri d'urso possono portarsi quindi in zona riscaldamento proprio per iniziare le loro fasi assolutamente non è previsto il defaticamento per chi ha terminato le gare alle 11.35 Grazie. 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 Invito nuovamente al rispetto delle corsie di riscaldamento che sono indicati proprio sui blocchi di partenza. Sono ovviamente divisi per categorie quindi anche per velocità di percorrenza della vasca. Grazie. Quindi prontamente sono aggiornate anche tutte quante le classifiche. La migliore prestazione attualmente di questi campionati è sempre di Simone Ciulli con novecentosettantasette virgola quarantacinque punti. Per il settore femminile invece la migliore prestazione attualmente è di Ariola Trini con mille e settantatré virgola novanta punti. Medagliere per società. Vede in testa attualmente la Pola Varese con sei ori, due argenti e quattro bronzi. Per quanto riguarda invece le società militari in testa il gruppo sportivo Fiamme Azzurre con quattro ori. La classifica invece, come già detto, per il settore maschile. Nel settore femminile vede la migliore prestazione nella categoria dalla S1 alla S6. Il primo posto va da Ariola Trini della Pola Varese, l'argento da Arianna Talamona delle Fiamme Azzurre e il bronzo da Irene Agostini della Spea Padova Ollus. Dalla categoria S7 alla S14 l'oro va a Carlotta Agilli Fiamme Ore Rarinantes, Giulia Terzi Argento Fiamme Azzurre e Pola Varese e bronzo ad Alessia Scortechini, Circolo Canottieri e Aniene. Per il campionato italiano di società la classifica provvisoria vede in testa la Pola Varese con 17.861,59 punti. Secondo posto per la Lazio Nuoto 10.507,37 punti e il centro sportivo Portici 9.242,63 punti. Per la Coppa Italia invece settore maschile la Pola Varese 11.299,85 punti. SS Lazio 8.927,02 punti. Il centro sportivo Portici 7.939,6 punti. Per il settore femminile sempre la Pola Varese 6.561,74 punti. L'SS Lazio Nuoto 3.447,05 punti. E la polisportiva Brescianano Frontiere Ollus 2.427,02 punti. Ricapitoliamo invece i record siglati in questo campionato italiano. Poco fa proprio Angela Procida con il record italiano nei 50 metri stile libero. Federico Bassani già annunciato dell'SS Lazio sempre nei 50 stile per il record italiano categoria junior. Già annunciati i record di... Record italiano categoria junior è Maria Olga Magliano del centro sportivo Portici e Gaia Mercurio del CSI Trento Nuoto. Record italiano categoria ragazzi. Federico Cristiani, Pavia Nuoto, Tommaso Morandi, Pola Varese e Tomas Rodella, Aspea Padova, On Lus. La propria gamba ragazzi. Ecologia laboralità è stata pranzodata. Già lo scrivere che sono da domani private, è stata pranzo impegazione, proveniente azabile dei Food e Camera. Di Gostarato percorrere al fatto present ingrediente, giàroubra a acts preghetto per il record chính이너 nonostante oggi presentati alla presenza per il nawet rispetto 밤 Але ku nonostante. invitiamo nuovamente gli atleti gli atleti a ritirare la medaglia e il diploma alle spalle del maxi schermo grazie 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 invitiamo nuovamente i tecnici e gli atleti a ritirare sia il diploma che le medaglie a ritirare alle spalle del maxi schermo ripeto è molto importante che gli atleti lo facciano in maniera tale da evitare assembramenti e quindi andare gradualmente al termine della loro gara ripeto gli atleti e le società che devono essere premiati come le classifiche sono pubblicate sul sito natatoria.com grazie devono portarsi in maniera celere in zona premiazione ossia alle spalle del maxi schermo grazie 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 ancora pochi minuti dieci minuti circa al termine del riscaldamento ricordo nuovamente di andare a ritirare le medaglie e i diplomi della zona retrostante il maxi schermo grazie 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 5 minuti bisognerà liberare la vasca altri 5 minuti per terminare poi con l'ultima sessione mattutina grazie 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 periodo di riscaldamento terminato invitiamo gli atleti a liberare la vasca ripeto periodo di riscaldamento terminato invitiamo gli atleti a liberare la vasca grazie 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 invitiamo quindi gli atleti a liberare la vasca il periodo di riscaldamento è terminato Grazie. Grazie. Periodo di riscaldamento terminato, invitiamo gli atleti a liberare la vasca. Grazie. Invitiamo gli atleti impegnati nei duecento metri misti a portarsi in camera di chiamata visto che è la prima gara che si svolgerà. Il video dopo c'è solo una serie maschile, invitiamo anche gli atleti al femminile a prepararsi velocemente nei duecento metri misti. Grazie. 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 Tutto pronto quindi per riprendere per la terza sessione, giuria a posto. Grazie. 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 intanto sono pronti sul piano vasca gli atleti della serie unica serie numero uno dei duecento metri misti corsia numero uno è pronto a partire Raffaele Vicente Di Luca gruppo sportivo paralimpico difesa in corsia numero due un oro con record del mondo nella quattro per cento stile libero un argento con record italiano nella quattro per cento mista due i bronzi ai campionati europei in Portogallo per il gruppo sportivo Fiamme Azzurre e la Pola Varese Federico Morlacchi corsia numero tre Gianluca Cacciamano SS Lazio alla quattro Kevin Casali circolo sportivo guardia di finanza corsia numero cinque Alessandro Apuani Polisportiva Bergamasca Ollus alla sei Vittorio Abete centro sportivo Portici alla otto con Michele Marinelli Polisportiva Senigallia hic poic-coic-coic-coic-coic-io Monta partita questa serie unica 200 metri misti come già detto come già annunciato abbiamo alla corsia numero 2 Federico Morlacchi Cal Classe SM9 gruppo sportivo Fiamma Azzurra e Pola Varese è stato taglia d'oro con tanto di record del mondo nella 4% stile libero maschi 34 punti seglare un record del mondo è sempre in plesa Ardua mentre invece nei 200 metri misti SM9 è stato un medaglia di brunzo proprio ai campionati europei è proprio Federico Morlacchi 29.94 il passaggio ai 50 metri nella frazione Farfalla fa gara solitaria testa un po' alta nel dorso colmento un po' attaccato al busto fa un po' scendere con il bacino ma una notata comunque efficace per l'atleta delle Fiamma Azzurra e Pola Varese il doppio tesseramento militare e civile azione d'orso rana tirata con Capriola per Federico Morlacchi 1.06.61 il crono il passaggio di metà gara 2.19.51 il tempo con il quale ai europei di Funchal è stato un medaglia di bronzo azione rana notata scivolata già siamo ai 150 metri Federico Morlacchi vira per l'ultima vasca l'ultima fatica 1.48.69 vediamo frazione stile libero si agita subito la gambata Federico Morlacchi un po' larga la sua bracciata nella fase di allungo ultimi 20 metri ultimi 20 metri per Federico Morlacchi andiamo a vedere un po' il crono 1.48.69 vediamo quanto chiude nella frazione stile libero tempo ufficioso di 2.21.58 2.21.58 il tempo ufficioso di Federico Morlacchi questo è il numero 4 andiamo a vedere un po' Kevin Casali 2.39.03 il crono ufficioso 2.43.63 per Alessandro Appuani presentiamo invece la serie unica 200 metri misti assoluti al femminile pronta a partire in corsia numero 3 Giorgia Fotia SS Lazio Nuoto corsia numero 4 anche lei una delle atlete della spedizione italiana europea di FUNCAL per lei medaglia di bronzo nei 100 metri rana veste i colori della gruppo sportivo dilettantistico non vedenti Milano Ollus Martina Rabolini corsia numero 5 Daniela Palazzetti SS Lazio Nuoto ed in corsia numero 6 già l'abbiamo vista pochi minuti fa in altre gare per il gruppo sportivo Fiamme Oro e per la Pavia Nuoto Monica Boggioni grazie a tutti 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 Per lei ben quattro ori, tre in gara individuale, uno in staffetta, con la staffetta proprio ora anche il record italiano, argento invece nei cinquanta metri stile libero e bronzo nei cento metri rana. Per quanto riguarda invece Martina Rabolini, l'abbiamo presentata proprio pochi minuti fa, taglia di bronzo nei cento metri rana, gara dei duecento metri misti complicata ma anche completa, proprio sinonimo di versatilità degli atleti e delle atlete in vasca. Virata dei cinquanta metri, quarantadue e diciannove Martina Rabolini, quarantadre e ventuno Danila Palazzetti. Importante sottolineare che le atlete nelle corsie centrali Martina Rabolini e Danila Palazzetti sono rispettivamente classe SM11 ed SM10, mentre invece Giorgia Fotia e Monica Bogioni sono rispettivamente classe SM6 ed SM5. 55 e 74 il passaggio di Monica Bogioni ai cinquanta metri, andiamo a vedere cento metri il passaggio, uno ventinove e trentuno Martina Rabolini, uno trenta e tredici Daniela Palazzetti, testa a testa fra le due atlete. Grazie a tutti. Due venti e novantasette Martina Rabolini, due ventidue e quarantasei Daniela Palazzetti, ultimi cinquanta metri, ultima vasca, intanto si avvicina la tirata dei centocinquanta, anche Monica Bogioni. Ed ecco qui in corsia numero quattro. Martina Rabolini, tre zero sei e zero cinque, Danila Palazzetti, tre zero sei e cinquanta sei, crono ufficiosi. Andiamo a vedere anche il crono di Monica Bogioni, tre trentasette e novantasette il tempo di iscrizione, vediamo quanto chiude la fatica. Tre trenta e cinque e novanta quattro ufficiosi, migliora quindi il tempo di iscrizione. Presentiamo ora gli atleti impegnati nella serie numero due di questi cinquanta metri rana maschi. In corsia numero tre troviamo Simone Frigerio, Briante 84, corsia numero quattro Emanuel Mariano, centro sportivo Portici. Alla corsia numero cinque, non l'abbiamo ancora presentato, fa il suo ingresso in vasca, William Frison, quarto classificato agli europei in Portogallo per la spea Padova Hollus. In corsia numero sei, Giovanni Turini, acquatimuto Cuoio. In corsia numero sei, Giovanni Turini, acquatimuto Cuoio. Con tre trentacinque e novantaquattro mi segnalano che Monica Bogioni è seconda nel ranking mondiale per le Olimpiadi di Tokyo venti ventuno. Grazie. 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 del centro sportivo portici indicazione dal tecnico lungo nel dare lungo di allungare la sua abbracciata cerca di respirare il meno possibile Emanuele Marigliano 1 0 6 0 0 il tempo di iscrizione 1 6 46 proprio in questa gara è lui il campione europeo in carica detentore anche del record italiano si accorce un po' la bracciata non è più distesa come all'inizio sente la fatica Manuel Marigliano ultimi metri diamo un po' l'atleta di casa cosa riesce a fare queste ultime bracciate e qui esce un crono pazzesco signori 1 5 48 ufficioso si è confermato il nuovo record italiano Manuel Marigliano presentiamo presentiamo gli atleti pronti a partire nella serie numero 1 corsia 2 Luigi Tozzi POA FI ASD alla 2 Luigi Paola centro sportivo portici corsia numero 4 Efra e Morelli gruppo sportivo Fiamme Oro Canotteri Baldesio corsia numero 5 Francesco Maria Maione Caravaggio alla 6 Pietro Passerini ASD Toscana di Sabini ASD è stato ritrovato il pass di Simone Frigerio della Briante 84 ripeto è stato ritrovato il pass di Simone Frigerio Briante 84 possono venirla a ritirare al tavolo qui dello speaker a 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 tempo di iscrizione 1 10 e 28 francesco maria maione tempo sempre ufficioso e luigi paola 1 14 e 94 per i 50 metri rana assolute al femminile è pronta a partire in corsia numero 4 valeria pappalardo dell'esse di nuoto lagabella a 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 fatica e direi di accompagnare con un applauso l'arrivo di Luigi Tozzi della Poafi e chiude la sua fatica col tempo ufficioso di tre quarantatré e zero sei Luigi Tozzi un forte applauso grazie a 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 femmine dei 50 metri rana avranno luogo i 100 metri d'orto maschi e femmine dopodiché terminerà la sessione mattutina e ci daremo appuntamento per il pomeriggio ricordo qualora non l'abbiate già fatto che le medaglie e i diplomi sono da ritirare alle spalle del maxi schermo dove troverete ad accogliervi personale altamente qualificato che vi in maniera molto celere riuscirà a consegnarvi tutto il tutto quello che avrete vinto e guadagnato e guadagnato a a a a a a a sempre bello e positivo vedere atleti che si cimentano e che vogliono essere sempre partecipi di quello che è lo sport grazie tanto preme comunque ringraziare il centro sportivo Portici che ha fornito volontari organizzato al meglio questo campionato italiano che sta avvolgendo puntuale come un orologio svizzero grazie a tutti grazie a tutti per la serie numero quattro dei cento metri d'orso assoluti maschi presentiamo gli atleti pronti a partire in corsia uno troviamo Thomas Diaconu ASD Silvia Tremolada alla due Giuseppe Borrelli centro sportivo Portici alla tre Salvatore Pentangelo centro sportivo Portici corsia numero quattro Simone Rossi Bergamasca alla corrossia numero cinque e detentore del record del mondo nei cento metri stile libero nonché nella quattro per cento stile libero al maschile quattro le medaglie d'oro ai campionati europei nonché un record europeo nei cinquanta metri stile libero e detentore del record italiano della distanza che tra poco lo vedrà in vasca con uno diciannove e quarantuno che lo ha fatto laureare medaglia di bronze campionati europei per i colori del gruppo sportivo Fiamme Oro e della SS Lazio Nuto Antonio Fantin corsia numero sei Gabriele Pancelli acqua team nuoto cuoio è in corsia numero sette Lorenzo Dainelli acqua team nuoto cuoio tanto con cinque e ventiquattro Valeria Pappalardo termina la sua fatica nei cinquanta metri rana grazie a tutti grazie a tutti come già annunciato prima di partire Antonio Fantin proprio in questa gara con medaglia di bronzo campionati europei 1.19.41 in batteria 1.20.77 poi in finale il suo crono siamo un po' con questa mattina se riuscirà a rendere spettacolare ancora di più questo campionato italiano assoluto estivo riuscirà a battere quindi un altro record Antonio Fantin ancora possiamo dire specialista proprio dello stile libero detiene il record del mondo 1.376 nella distanza di 100 stile 40.62 il passaggio di metagara forse un po' lento per poter rimpensierire il suo record italiano andiamo a vedere un po' la vasca di ritorno un tempo che richiama circa 1.22 1.23 andiamo a vedere se riuscirà Farmino ad abbassare ulteriormente il crono 1.295 per Antonio Fantin il tempo ufficioso con il quale si aggiudica questa serie del campionato italiano presentiamo la serie numero 3 diecento metri d'orso al maschile in corsia numero 1 parte Simone Basti a sedi nuoto la gabella corsia numero 2 sono ben sette i record italiani che ha stabilito ai campionati europei sono tre le medaglie d'oro tre le medaglie d'argento per l'atleta portacolori della Bresciana noto no frontiere allus Federico Bicelli corsia numero 3 Vincenzo Spinelli centro sportivo Portici corsia numero 4 Fabrizio Suarato centro sportivo Portici corsia numero 5 Leonardo Torsani polisportiva comunale Riccione corsia 6 Claudio Negru SS Lazio Nuoto alla 7 Danilo Ambrosini Pola Varese e in corsia numero 8 Guido Esposito centro sportivo Portici Grazie a tutti 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 Grazie. 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 Leonardo Torsani, 1,36, 88. Risultati sempre ufficiosi. Grazie. 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 Nella serie numero 1. Troviamo pronti i blocchi di partenza. Un campo partenti davvero di primissimo ordine. In corsia numero 1 parte Gianluca Cacciamano, SS Lazio. Alla 2, Vasdarius Basile Mif, SS Lazio. Corsia numero 3. Veste i colori del circolo, Canottieri Aniene. È stato due volte medaglia di bronzo. Proprio anche in questa gara ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati europei. Riccardo Menciotti. In corsia numero 4. È pronta a scendere in basca. Rappresentando le fiamme oro e la Verona Swimming Team. Detiene il record del mondo nella 4% stile libero. Due le medaglie d'oro e invece due i record italiani sempre stabiliti ai campionati europei. Signori Stefano Raimondi. In corsia numero 5 per la Pola Varese. È stato medaglia d'oro per ben 4 volte ai campionati europei. Due i record del mondo stabiliti. Uno invece il record italiano con tanto di medaglia d'argento ed anche una medaglia di bronzo. Signore e signori Simone Barlam. In corsia numero 6. Tanti piazzamenti per lui ai campionati europei. sempre per la Verona Swimming Team. Miscia Palazzo. Corsia numero 7 per l'Adus Triestina Nuoto. Alessandro Agosto. E in corsia numero 8. Karim Gouda Saeed Hassan. Circolo canottieri a Niene. E in corsia numero 8. E in corsia numero 8. Colpiti AAA. Chi Puotopoloicksal. Chi Puoguiple cruelWhy are the giant sp ум non na. Riccardo Menciotti e Stefano Reimondi Categoria S10 Simone Barlam categoria S9 Miscia Palazzo categoria S14 Occhio al cronometro perché qui può cadere qualche record italiano in testa sembra proprio Riccardo Menciotti della Niene tempo di iscrizione 60 e 40 su un ritorno di Stefano Reimondi accreditato di 58 e 00 30 e 14 Riccardo Menciotti 30 e 49 Stefano Reimondi 30 e 50 Simone Barlam 31 e 59 per Miscia Palazzo siamo quindi già ai 25 metri finali molto bello questo dorso in corsia numero 4 per Stefano Reimondi testa praticamente ferma ottimo il rollio delle spalle sempre in presa l'atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro andiamo a vedere il crono ufficioso di se uno uno e trenta uno due e quindici per Riccardo Menciotti uno tre e novantasei Simone Barlam e uno cinque e ottantaquattro per Miscia Palazzo e se confermato dalla giuria abbiamo un nuovo record italiano siglato da Miscia Palazzo tempo ovviamente ancora ufficioso pronti a presentare la serie numero 4 dei 100 metri d'urso assoluti femminili corsia numero 3 partirà Marta Caponera SS Lazio alla 4 Erika Bistoletti Polavarese corsia 5 D'Aria Dottavi SS Lazio Noto e in corsia numero 6 per il centro sportivo Portici Angela Procida grazie grazie Angela Procida sui 50 metri d'urso con uno undice e quarantasei è stata a medaglia di bronzo che ha siglato il record italiano della categoria S2 infatti in questa serie Angela è l'atleta unica atleta categoria S2 tutte le altre sono categoria S6 nonostante quindi la categoria più bassa Angela Procida cerca di sgomitare con tutte quante le altre concorrenti che fanno un po' da traino nella sua prestazione molto bene sempre in presa sott'acqua spinge tantissimo l'atleta del centro sportivo Portici alla ricerca il risultato cronometrico soddisfacente 2.37 il suo tempo di iscrizione 2.29.70 il record italiano andiamo a vedere i passaggi Enrico Pistoletti 1.9.89 Dario ad Ottavi 1.12.56 Angela Procida 1.15.84 Angela Procida seguita da Enzo Allocco e Francesca Allocco entrambi ora lì molto attenti a seguire qualsiasi errore tecnico sbavatura tecnica della loro atleta poco meno di 25 metri alla conclusione di della gara per Erika Pistoletti avviciniamo alla chiusura proprio di questo 100 metri d'orso al femminile serie numero 4 tempo ufficioso Erika Pistoletti 2.22.61 2.27.50 per Dario ad Ottavi a vedere Angela Procida in quanto chiude ufficioso 2.40.45 presentiamo la serie numero 3 dei 100 metri d'orso al femminile in corse a 2 parte Giorgia Molani Polisportiva Terraio alla 3 Miriam Ceresoli Polisportiva Bresciana non frontiere Onlus alla 4 Aurora e Sabotini Italica Sport SRL alla 5 Giulia Bellingeri Pavia Nuoto alla 6 Irene Agostini ASD Aspea Padova Onlus visita Aspea Aspea la 7 Grazie. 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 Il controllo della situazione in corsia numero 6, Irene Agostini, proprio una delle atlete categoria S6. Passaggio 100 metri a 50 metri, 53 e 76 il suo crono. Veramente ottimo il passaggio, molto più basso rispetto al tempo di iscrizione. Intanto sono arrivate sul piano vasca le atlete appartenenti alla serie numero 2 di 100 metri d'ursa al femminile. In corsia 1 troviamo Katia Scherillo, ASD Polisportiva di Sabili, Fabriano Mirasole. Alla 2 Gaia Mercurio, CSI Trentonuoto. In corsia numero 3 rappresenta il gruppo sportivo Fiamme Azzurre, la Verona Swimming Team. Ha rappresentato l'Italia ai campionati europei con ben 3 medaglie d'oro, 2 d'argento e 2 di bronzo e ben 3 record italiani. Xenia Francesca Palazzo. Corsia numero 4 per la Spolisportiva del Raio, Marta Pozzi. Alla 5 Elisabetta Burattini, ASD Toscana di Sabili Sport. Alla 6 Maria Olga Magliano, Centro Sportivo Portici. Alla 7 Francesca Barcellan, SS Lazio Nuoto. Alla 8 Sofia Cornacchini, Atlantide Onlus. Intanto con 1.55.45 il tempo ufficioso di Irene Agostini, 2.01.21 Giulia Bellingeri e 2.582 Aurora e Sabotini. In corsia numero 2, se confermato, abbiamo un nuovo record italiano. L'anno 2008, Giorgia Molani con il crono di 2.15.09. abbatte completamente il vecchio primato nazionale di categoria di 2.53.37. Alla 7 Maria Olga Magliano, Centro Sportivo Portici. Alla 7 Maria Olga Magliano, Centro Sportivo Portici. Alla 7 Maria Maria Magliano, Centro Sportivo Portico. segna Francesca Palazzo delle Fiamme Azzurre e Verona Swimming 1.20.32 è proprio il suo record italiano questa gara è stata medaglia di bronze ai campionati europei di FUNCAL a vedere un poco l'atleta di Verona Verona Swimming Team allenata da Marcello Rigamonti vecchia conoscenza del nuoto nazionale ed internazionale proprio sul dorso con l'Ele Merisi è stato uno degli allenatori più in voga della nazionale italiana assoluta negli anni del 96 passaggio di metagara 40.81 per segna Palazzo 40.81 servirebbe un ritorno in negative split per abbassare il suo record italiano ultimi abbracciate ultimi metri proprio per segna Palazzo andiamo a vedere il suo crono ufficioso di 1.23.08 1.23.08 per Juniores così come per Maria Olga Maiano del centro sportivo Portici 1.36.45 si è confermato dalla giuria è un nuovo record italiano Juniores pronti a presentare l'ultima serie di questa mattina in corsia numero 1 è pronta a partire Jessica Ielberton Polavarese alla 2 Adlin Cicca Polavarese alla 3 Fabrizia Torrigiani voto Valdinievole alla 4 è stata anche lei una delle atlete che ha partecipato ai campionati europei di FUNCAL per l'Adus Triestina Nuto Giorgia Marchi corsia 5 per Viviana Teofili SS Lazio alla 6 Margherita Sorini ASD Verona Swimming Team alla 7 Michela Biolcati ASD Novara e in corsia 8 Silvia Vic Polisportiva Bergamasca Onlus Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Tempo ufficioso di 1.21.56 per Giorgia Marchi, 1.24 per Margherita Sorini, Viviana Teofili 1.30 e 38. Tutti quanti questi tempi sono ufficiosi. Intanto in corsia numero due si è confermato il nuovo record italiano di categoria per Adlin Cica, 1.36.59. 9. Grazie a tutti. Tanto tutta quanta la mattinata quindi sta volgendo al termine con l'ultima atleta impegnata nella sua gara. Ottimo lavoro della giuria, del GUC, della Federazione Italiana Cronometristi, sezione di Napoli, nonché di tutti quanti i volontari qui alla piscina Felice Scandone. Michela Biolcati conclude in 2.40 e 23. Noi ringraziamo quindi la giuria, la mattinata di gara di questo campionato italiano si è conclusa, congediamo la giuria e ringraziamo il pubblico che ci segue da casa, nonché gli atleti tecnici, le società, i giudici e i cronometristi per la partecipazione ed auguriamo a tutti un buon proseguimento di giornata qui a Napoli. Grazie. Ricordiamo gli orari del pomeriggio, 14.45, apertura in pianto e accrediti, 15.30, dalle 15.30 alle 16.10, riscaldamento in vasca solo per i 100 metri stile libero uomini. ore 16.30 previsto all'inizio gare, dopodiché ci sarà una pausa dalle 17.40 alle 18.10 per il riscaldamento dei 100 stile donne, dei 400 stile e 200 metri stile libero e alle 18.15 avremo l'inizio delle gare. L'orario previsto del termine della sessione è per le ore 20.20. Tutti buon pranzo. Grazie. Grazie.